In quest'ultima ora andiamo a fare un argomento che non c'entra direttamente con le sue decisioni. Andiamo innanzitutto a dare la definizione di spaziometrico. Cos'è uno spaziometrico? E' una coppia x dove x è un insieme e d è una distanza sull'insieme x, cioè che cos'è? D è una funzione da x cartesiano x a valori in 0 più infiniti, cioè significa che alla coppia xy gli elementi di x associano la loro distanza che indicano punti xy. Una distanza però non è un'applicazione qualunque, innanzitutto c'è scritto qua che deve essere costruita, ma poi deve possedere tre proprietà. Allora la prima proprietà, quando innumero le proprietà lo farò sempre con i, 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 cioè con la numerazione romana. Oppure con, ci metterò dei pallini, un pallino, due pallini, due pallini. Allora la prima proprietà, la distanza di x, y deve essere maggiore o uguale a 0 per ogni x e y appartenente a x e questo stava già scritto qua dentro. La seconda proprietà è che la distanza di x e y deve essere maggiore o uguale a 0 per ogni x e y e poi la distanza di x e y deve essere maggiore o uguale a 0 per ogni x e y. Questa quindi è una proprietà di simmetria. La terza proprietà è una proprietà che conosciamo già nel caso criterio, cioè che la distanza di x da z è minore o uguale della distanza di x da y più la distanza di x più la distanza di x e di y da z per ogni x, e si chiama disuguaglianza triangolare. Questa disuguaglianza triangolare si chiama così mutua il nome dal caso criterio, ma in realtà è concettualmente molto semplice. Il concetto di spaziometrico, quando abbiamo due punti, la distanza di x da y molto spesso è associata con la lunghezza in un certo, con un significato ben deciso, può essere anche una lunghezza in tempo, piuttosto che una lunghezza del percorso che conduce da x fino a y. Allora immaginate per esempio di dover andare da x fino a z e immaginate di dover imporre il vincolo di passare per y, allora se io devo passare per y o comunque sia, se sono obbligato a passare per y, allora a lungo, per qual motivo? perché se questo percorso che mi porta da x a z passando per y fosse più corto di quello di prima già sarebbe il percorso che mi dà la distanza, perché la distanza è la lunghezza del percorso di lunghezza minima che conduce da x a z, cioè questo come concetto sottostante, qua non c'è nulla di tutto ciò queste sono semplicemente una definizione, quindi, insomma il concetto è che io, il concetto alla base della distanza triangolare è che quando vado da x a z io ci vado nel modo, diciamo, seguendo il percorso più breve possibile, ovviamente qua c'è scritto che se devo passare per y allungo, tra virgolette c'è, posso anche rimanere che non allungo, cioè, qua può anche valere l'uguale, tra quante volte uno dice, vabbè, uno dà il passaggio a uno, dice, no vabbè, ma poi devi allungare, no, 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 sono di strada, cioè passo per casa tua, ti lascio, quindi non allungo, ok, però, ovviamente quali possono essere esempi di spazi medici, possiamo avere i classici esempi di distanze, quindi possiamo avere una distanza stradale, una distanza ferroviaria, una distanza, diciamo, percorso per via aerea, e così via, in realtà anche le classiche distanze a volte non soddisfano queste proprietà in maniera perfetta, facciamo un esempio, questa più o meno ci possiamo stare, perché, diciamo, anche questa però può essere oggetto di riflessione, perché, oggigiorno per esempio, internet ha ridotto la distanza che mi serve per collegarmi con un documento, diciamo, con qualunque tipo di informazione mi serva, se so dove sta, è praticamente quasi nulla, no, mentre prima accedere ad un certo tipo di informazione, significava andare fisicamente da qualche parte, eccetera, adesso, magari se io faccio la distanza, diciamo, un collegamento internet, molto spesso la distanza assomiglia a un tipo di distanza che in matematica si chiama 0,1, ci sono certe cose alle quali puoi accedere, che hanno praticamente tutte e quale distanza nulla, perché tu premi un tasto e arriva tutto, e certe altre cose invece che hanno una distanza che per te, alle quali non puoi accedere, la situazione limite perfetta di quella che si viene dato il gettone per poter chiamare l'avvocato, quindi, tu puoi, diciamo, se c'è il gettone puoi chiamare chiunque, nell'ambito della città, allora prenditi insieme le persone della città, che hanno un telefono, allora, all'epoca comunque, la comunicazione aveva un costo fisso urbano, che era il gettone, allora se tu non hai il gettone puoi comunicare solo con te stesso, se hai il gettone puoi comunicare con chi ti va, comunque, la mia proprietà più o meno è abbastanza standard, è abbastanza banale, la seconda, quella di simmetria, nelle distanze vere e proprie, diciamo, nella vita reale, a volte non è vera, perché a volte, per esempio, se io vado, pensate ai sensi unici, se io voglio andare da qui a un altro posto di cassino, in questo senso devo fare 200 metri, se voglio tornare al contrario, devo fare un chilometro, perché per via dei sensi unici devo fare un giro di vesti, quindi questa qua a volte non è vera, però, diciamo, fin tanto che i collegamenti di comunicazione sono simmetrici, per esempio, se parliamo di una filologia a doppio binario, che è sempre a doppio binario, allora, questo è vero, perché se c'è il binario che porta da Napoli a Roma, c'è sempre il binario che porta da Roma a Napoli, e la lunghezza è la stessa. Questa qua, invece, è, appunto, sempre, diciamo, è ragionevole chiederla, e ha senso, perché su qualunque tipo di distanza, è chiaro che se io impongo il vingolo di passare per y a lui, ovviamente, ecco, un altro motivo per cui la distanza potrebbe non essere simmetrica, per esempio, se io faccio anche la distanza per via aerea, è come sono posizionati gli aeroporti, per esempio, chi parte da Fiumicino sa benissimo che l'aereo decolla verso il mare, qualunque cosa sia decolla verso il mare, sia che debba andare verso New York, allora continuo, sia che debba andare verso, che ne so, Varsavia, allora piglia e gira. Quindi, già questo rende, rende la cosa, può rendere la cosa non simmetrica, perché invece, in atterraggio, l'aereo che arriva da Farsare, atterra direttamente, non deve fare tutto così. Quindi, il fatto che magari si atterri su una pista, e si decolli da un'altra pista, può far sì che non ci sia simmetria. Però, modulo questi fatti qua, bene o male, diciamo, il concetto di distanza è venuto fuori, veramente, da quello di distanza, dei collegamenti, dei trasporti. Però, anche lì, le distanze sono di più e sono diverse, perché, per esempio, ammesso che soddisfino queste tre proprietà, sia la distanza stradale, sia la distanza ferroviaria, sia la distanza aerea, tendenzialmente, chi è, se io prendo due città che sono dotate sia di collegamenti stradali che ferroviari, per esempio, Roma e Milano, qual è più lunga, quella stradale o quella ferroviaria? o quella E. In genere, quella stradale e ferroviaria sono quasi uguali, però, tendenzialmente, quella ferroviaria è più corta. Per quale motivo? A parte gli investimenti che vengono fatti per fare le gallerie, quelli si possono fare pure delle strade. però, tendenzialmente, la ferrovia è una linea di comunicazione privilegiata che ti arriva al centro della città, mentre la strada poi comunque arrivi all'accordo che poi dopo ti porta verso il centro e quell'ultimo pezzo spesso non è molto rettilineo perché deve tenere conto del contesto urbano e dei vincoli che ci sono. Meglio ancora, chi è più corta, il collegamento via aereo o il collegamento via treno? Via aereo, perché per aria non è che c'è tanti vincoli. È vero che anche col treno voi avete, però, col treno, se volete andare da, diciamo, Roma a Verona, passate comunque per Bologna, Bologna a girare, cioè, c'è poco da fare, invece da Roma, per Roma ci vuole andare direttamente. Anche gli aerei non seguono sempre una linea diritta, l'aereo segue una linea non sempre diritta perché deve garantire in ogni caso che ci sia un posto dove possa attirare. Poi però, ci sono anche altri tipi di distanze, per esempio, se parliamo della distanza stradale, io posso avere più strade, allora, se io voglio andare da qui alla sede universitaria nostra che abbiamo a Frosinone, probabilmente il percorso più corto è per la Casilina, perché altrimenti l'altro percorso possibile è andare a prendere l'autostrada e poi salire, ma siccome la Casilina mi porta direttamente a Frosinone alto dove sta la sede e sicuramente mi fa accorciare di 7-8 km quanto meno, il problema è che se seguo quel tipo di strada sicuramente ci metto più tempo perché se posso sull'autostrada lo scorrimento delle ame è più veloce, quindi se io vado in termini di chilometri ho un certo tipo di distanza, se invece vado in termini di tempo di percorrenza allora il percorso più breve diventa l'autostrada. Chiaro? Ok, però diciamo questo dal punto di vista della definizione a me non interessa, cioè io vi devo specificare ho un insieme per esempio l'insieme delle città e devo specificare una distanza cos'è la distanza? Per esempio quando vi danno la distanza ci sono dei programmi che vi forniscono la distanza e il termine di tempo tra due città il tempo di percorrenza com'è fatto questo tempo di percorrenza? Mica quello si mette a fare una media delle auto che quando vi dicono che il tempo di percorrenza da qua a Frosinone è 48 minuti esattamente lo fanno con i limiti di velocità cioè loro dicono ci sono i limiti di velocità anche ammesso che tu ovviamente se ci sta con il giorno ci sta l'ingolgo anche sull'autostrada ci metti 3 ore lo stesso però diciamo la distanza viene definita sulla diciamo in base ai limiti di velocità quindi alla velocità più grande che tu puoi tenere che la strada si fa il punto e quella lì modula certe piccole cose insomma problemi di simmetria o quant'altro ma sostanzialmente è una distanza mettiamo se effettivamente i collegamenti sono simmetrici allora effettivamente è una distanza anche quella line con il tempo di percorso quindi possiamo avere più distanze possiamo avere più distanze chilometriche a seconda del tipo di collegamento che abbiamo oppure possiamo avere una distanza diciamo con i tempi di percorrenza o qualunque altra distanza ci vogliamo inventare abbiamo l'insieme x ogni volta che ci inventiamo una funzione d con queste tre proprietà si vanno gli spazi chiaro? ok allora quali sono i casi standard caso standard principale è R su R noi abbiamo la distanza euclidea com'è fatta la distanza euclidea di due punti per definizione è il valore assoluto della differenza stiamo sulla retta reale la distanza non è altro che la lunghezza del segmento che va da x fino a y o da y fino a y dipende chi è più grande chiaro? è una distanza certo perché il valore assoluto della differenza è maggiore o uguale a 0 è uguale a 0 solo quando x coincide con y è simmetrico e infine soddisfa la disuguaglianza triangolare questa disuguaglianza triangolare l'abbiamo già vista possiamo anche avere c con la distanza anche questa si chiama distanza euclidea chi ha la distanza euclidea di z da doppio e il modulo di z meno anche questa è una distanza perché se vi ricordate noi abbiamo dimostrato la disuguaglianza che le prime due proprietà sono banali il modulo è un numero reale maggiore o uguale a 0 uguale a 0 ed è simmetrico il modulo di meno z è uguale a modulo di z ma l'unica proprietà non banale è la disuguaglianza triangolare ma se vi ricordate noi la disuguaglianza triangolare l'abbiamo dimostrata anche per i numeri complessi e la distanza parta col modulo ok quindi questi due casi per noi sono casi che agiscono da faro ok poi giusto per far capire che non ci sta solo questo che non ci sia solo questo già l'abbiamo capito perché per esempio una distanza si può definire sull'insieme delle città quindi anche se l'insieme non è un insieme di numeri non è un insieme di città la distanza si può fare e sull'insieme delle città abbiamo visto che di distanza ne possiamo avere almeno 4 quella stradale quella ferroviaria quella aerea quella navale se sono città che stanno sul mare oppure quella in termini di percorrenza chiaro ok anche quella navale è una distanza anche lì non sempre dice ah vabbè basta fare sull'oceano la cosa più corta no perché se tu vuoi andare da qui in Asia per esempio questi sono problemi attualissimi attualissimi per quale motivo questa è una cosa che merita anche se non è propriamente matematica merita due minuti di approfondimento uno dei principali problemi del commercio mondiale qual è? costo dell'asporto portare le merci dalla Cina in Europa e viceversa questo è uno dei problemi principali del commercio mondiale attualmente per esempio la Cina ha lanciato un programma enorme che si chiama la via della seta che però non è facile ad attuare perché cosa significa allora chi va quando le petroliere andavano a prendere il petrolio dal vanno a prendere il petrolio dal Golfo Persico che giro fanno e lo devono portare in Europa passavano per il canale di Suez il canale di Suez era stato realizzato nel 1856 se non sbaglio apposta per fare questo però il problema è che a un certo punto è scoppiata la guerra negli anni 70 c'è stata una crisi per cui il canale di Suez era giusto le petroliere facevano il giro sotto l'Africa e hanno fatto le super petroliere talmente grosse che magari per il canale di Suez non ci passava neanche più quindi questa lotta è rimasta anche dopo è stato ripeto il canale di Suez e in certi casi quindi tutte le petroliere che portano il petrolio nell'est asiatico passano per lo stretto di Malacca perché accorciano di parecchio se un domani si chiude per qualunque motivo lo stretto di Malacca poi le petroliere devono allungare devo fare mille chilometri non sono fatti indifferenti quindi la distanza navale ha dei vincoli quindi non è una distanza che tu fai vabbè diciamo l'unico vincolo è quello di stare sulla superficie terrestre no ci sono dei vincoli dati dalla diciamo dalla presenza di ostacoli nei cammini però per farvi vedere che non ci sono solo queste distanze potrei anche definire questo acceno soltanto perché non sappiamo che è R2 R2 comunque è R cartesiano R e gli elementi di R2 hanno semplicemente sono dei punti che hanno due coordinate quindi X siamo sul piano cartesiano quindi accogliate X1 X2 Y uguale Y1 Y2 anche qui voi avete una distanza che è quella euclidea come si fa la distanza euclidea di due punti stavolta sul piano quindi non sulla retta ma sul piano si fa se vi ricordate con la radice quadrata di X1 meno Y1 al quadrato più X2 meno Y2 al quadrato e quando andate a disegnare questi punti sul piano dovete fare la inizia di questa diagonale per il terreno di bidardo però non è l'unica possibilità io posso fare anche un'altra distanza la chiamo distanza 1 di X da Y posso fare X1 meno Y1 più X2 meno Y2 che significa che invece di andare lungo la diagonale io sono costretto a muovermi per andare da X a Y o in orizzontale o in verticale allora se voi siete costretti a muovervi in orizzontale in verticale però per andare da X a Y potete andare cioè la lunghezza che percorrete non è uguale alla lunghezza della diagonale ma la somma della lunghezza dei cadetti che è di più ma non mi conviene e dipende se stai a Cassino e vuoi andare da un posto a un altro le strade sono fatte così verticali e orizzontali e quindi devi fare la distanza stradale non sarà di questo tipo non sarà di questo tipo se tu stai sulla strada e vuoi andare da un posto a un altro a Cassino le strade sono tutte o orizzontali o verticali tranne il posto della Repubblica e via De Nicola che sono leggermente divergenti ma insomma le altre più o meno sono fatte così ma non solo a Cassino anche in quasi tutte le città americane sono fatte così ci stanno le street e le evine anzi le street sono quelle corte e sono tante le evine sono quelle lunghe sono le rettangolo quelle parallele al lato più lungo ok e sono in genere più lato ok oh però non hai solo svantaggi ad avere questo tipo di distanza è vero che è più lunga però è vero anche che hai due percorsi di lunghezza minima allora se io avessi un rettangolo molto alto vedete io voglio andare da x a y io posso seguire questa base e questa altezza oppure questa altezza e questa base quindi ho due soluzioni il che in caso diciamo se il rettangolo è molto lungo per esempio andando in diagonale avrei poco guadagno in termini di avrei un guadagno però non eccessivo in termini di lunghezza percorsa però il fatto di avere due soluzioni mi per esempio consente di diciamo avere magari che una delle due soluzioni è migliore per problemi di traffico quindi a Cassino spesso vuole di sapere le strade che dovete percorrere per metterci di meno ma in termini di lunghezza questa qua è già una distanza se parliamo soltanto della lunghezza ok che questa sia una distanza questa è un po' più difficile da dimostrare questa è facilissima da dimostrare ma comunque si dimostra in tutto il resto quindi il concetto che deve rimanere stampato in testa a lettere proprio marchiata a forno è che avere una distanza cioè avere uno spazio medico significa avere un insieme con una distanza su un insieme ci possono stare tantissime distanze diverse abbiamo dato numerosi esempi proprio per far capire che le distanze sullo stesso insieme possono essere sbagliate tra le città dipende come ti vuoi muovere per strada per ferrovia o l'aereo quindi ci possono stare nello stesso insieme moltissime distanze diverse per esempio in R2 ci saranno infiniti tipi di distanza questa qua si chiama distanza 1 o metrica di Manhattan perché è di un certo tipo questa qua si chiama distanza 2 poi ci sarà una distanza P per ogni P compresa tra 1 e P però per adesso non ci riguarda ok l'altra cosa che deve rimanere impressa è che per avere uno spazio medico l'insieme X non deve essere per forza un insieme di numeri noi appliceremo il concetto di spazio medico a insiemi numerici di vettori di funzioni ma ovviamente si può anche avere un insieme di città chiaro? ok allora detto questo fissato questo concetto allora se io un'altra cosa deve rimanere impressa se io ho perso mezz'ora a fare questo discorso non l'ho perso per parlare soltanto del problema commerciale di importare le merci di esportare le merci in cibo l'ho perso perché è un concetto che ritengo importante no? quindi al tempo impiegato dovrebbe essere proporzionato il tempo che ci dedicate anche voi nella riflessione per cercare di capire adesso comunque fatto questo data questa definizione che ci ha portato via una mezz'oretta andiamo a vedere cosa si può fare in uno spazio medico ecco quello che si può fare in uno spazio medico adesso cominciamo a fare qualche accento poi lo sviluppiamo lunedì è la definizione di una topologia noi facciamo soltanto in caso degli spazi medici si può fare in caso più generali ma noi facciamo solo in caso degli spazi medici allora cominciamo il fatto di definire la topologia richiede una lunga serie di definizioni allora noi abbiamo sia x di uno spazio medico allora cominciamo dalla seguente definizione si chiama sfera aperta di centro x con 0 che è di raggio y questo non è altro che l'insieme degli x appartenenti a x tali che la distanza che abbiamo sullo spazio medico di x da x con 0 è minore che si chiama sfera aperta in inglese open ball attenzione sfera in inglese è ball non è sfia sfia della superficie sfera sfera chiusa centro x con 0 e raggio y la stessa cosa però qua c'è il minore 1 ok allora una volta date perché si chiamano così perché se siamo in R3 cioè nello spazio usuale e abbiamo la distanza euclidea definita non l'ho definita perché definita solo in R2 ma in R3 si definisce in maniera analoga effettivamente la sfera aperta è un aspetto aperta significa che non c'è la superficie chiusa vuol dire che c'è la superficie chi sono le sfere aperte nel caso di R con la distanza euclidea chi è la sfera aperta di centro x con 0 secondo voi su R e la distanza euclidea quale segmento x con 0 meno y x con 0 più y se prendete la sfera aperta vi viene il segmento aperto senza gli estremi se prendete la sfera chiusa vi viene il segmento compreso gli estremi se lo fate in R2 e x con 0 è un punto di R2 usando sempre la distanza euclidea invece di venire il segmento vi viene in un cerchietto metto i tattini per indicare che il cerchietto è senza circonferenza nel caso della sfera aperta ed è con la circonferenza nel caso della sfera aperta chiaro? ok queste sono due definizioni adesso dobbiamo dare altre definizioni molte definizioni definizione si dice che U è un intorno di x con 0 siamo sempre allo stesso spazio metrico oppure x con 0 x con 0 è interno a tutti o dico così o dico così è la stessa cosa se solo se per definizione esiste un epsilon maggiore di 0 tale che x con 0 ovviamente appartiene alla sfera di 100 x con 0 di raggio quindi si dice che un punto è interno a un insieme ovvero che l'insieme è un intorno del punto se in mezzo ci riesco a mettere una sfera aperta di 100 ok vediamo se avete capito prendiamo questo intervallo qua 0 1 con questo estremo con 0 si e 1 no allora cominciamo a vedere 2 è un punto interno a questo insieme no allora un punto per essere interno a un insieme quanto meno ci deve appartenere perché sta in questa sfera che è un punto quindi sicuramente deve stare quindi neanche 1 è interno all'insieme un mezzo è interno all'insieme un mezzo si perché io posso prendere un epsilon abbastanza piccolo e ci riesco a mettere una sfera 0,001 è interno all'insieme 0 è interno all'insieme no interno che significa non significa solo appartenente allora vedete se io parto da 0 qualunque sia epsilon e vado a fare un intervallino che corrisponde alla sfera aperta l'intervallino sarà meno epsilon più epsilon ma siccome deve partire da meno epsilon meno epsilon sta fuori dall'insieme quindi diciamo un pezzo di questa sfera aperta non è contenuto in uno per esempio meno epsilon a mezzi non è contenuto in 0 quindi chi sono i punti di quell'intervallo lì 0,1 chiuso a sinistra vento a destra che sono interni all'intervallo i punti interni di questo insieme sono l'intervallo aperto sono l'intervallo senza gli estremi perché se io prendo un qualunque punto di 0,1 le cose funzionano tranne in 0 rifacciamo lo stesso ragionamento con a b con a b allora chi sono i punti interni ad a b beh sicuramente devono essere punti dell'intervallo perché se sto fuori dell'intervallo non stanno nell'intervallo quindi non ne sono neanche interno però non sono tutti gli estremi non vanno bene se un punto sta veramente perciò si dice interno perché più o meno la terminologia rispetta quello che ci vuole diciamo se io prendo un punto che ne so anche a più rho basta prendere e uguale alla metà di rho ed effettivamente ho una sfera aperta il contenuto è il contenuto di a se però prendo b le cose non funzionano perché siccome siamo proprio si dirà sulla frontiera ogni volta che vado a prendere un intervallino di centro b metà sta nell'insieme e metà sta di fuori quindi il punto b non è interno il punto a non è interno gli altri punti dell'intervallo da b sono interni ok adesso dobbiamo andare a dare altre due definizioni quando è che un insieme si dice aperto poi le proprietà di queste tipologie di insiemi le vedremo lunedì sempre nello stesso contesto cioè nel contesto di uno spazio di uno spazio medico a contenuto in x si dice aperto se solo se per definizione a è intorno di ogni proprio punto di uno spazio suo punto vediamo il caso di prima questo insieme a b con gli estremi è aperto allora abbiamo visto che questo era intorno di tutti i punti che stavano in questi potete dire potete dire che sia aperto a b con gli estremi la risposta è no perché non è un intorno né di a né di b qua c'è scritto che deve essere intorno di ogni suo punto mentre invece se ci tolgo gli estremi effettivamente è aperto perché stavolta a qualunque punto io vado a prendere nell'insieme siccome non può essere più uguale né ad a né a b ma deve essere estrettamente compreso tra e b posso sempre ricavare un intervallino qui x con 0 meno s e prendo l'ex abbastanza piccolo posso ricavare un intervallino x con 0 meno y x con 0 più y contenuto in a b ci siamo? ok quindi effettivamente se parliamo di intervalli gli intervalli aperti sono esattamente quelli che prima chiamavamo aperti cioè sono quelli senza estremi a un intervallo aperto e a b senza estremi un aperto vedremo poi magari lunedì che non è necessariamente per forza un intervallo posso avere un aperto che è fatto dall'unione di due intervalli dall'unione che può essere un insieme di me può essere una semiretrica però la definizione è questa prima di andare avanti secondo voi tutto x è aperto? se io prendo l'insieme x questo è sempre aperto? a norma di definizione sì perché qualunque sia x questo è un sotto insieme di x quindi avrò che questo condiene x con 0 perché condiene sempre x con 0 aspetta perché la distanza x con 0 x con 0 fa 0 quindi sicuramente meno di x quindi x è sempre aperto fatemi un altro esempio di un insieme che è sempre aperto di un sotto insieme di x per meglio dire che sia sempre aperto va bene io dico che un altro sotto insieme che è sempre aperto è il vuoto sono sempre aperto x allora a perché il vuoto è sempre aperto l'insieme per essere aperto deve essere intorno di ogni suo punto ma il vuoto quanti punti ha? nessuno quanti elementi ha? nessuno quindi non ci sono condizioni da imporre quindi aperto è chiaro? quindi l'insieme x e il vuoto sono sempre aperti poi a seconda della distanza le cose cambiano potrei avere che ci siano molti aperti oppure potrei avere che ci sono pochi aperti qual è il minimo possibile di aperti che posso avere solo x e solo il vuoto in quel caso si parla di topologia indiscrete nel caso della topologia euclidea gli aperti sono molti ma molti di più per esempio sulla retta reale sono molti ma molti dico un'ultima cosa chi è un chiuso c contenuto in x si dice chiuso se solo se per definizione x meno c è aperto quindi chi è chi sono i chiusi sono i complementari degli aperti ok allora cosa se ne rigava normalmente quando vuoi pensare ad aperti e chiusi pensate a una cosa esclusiva cioè se ne sia l'aperto non è chiuso effettivamente in molti casi è così per esempio gli intervalli aperti non sono chiusi gli intervalli chiusi non sono aperti però chi è il complementare di x è il vuoto e chi è il complementare del vuoto è x quindi tutto lo spazio x è il vuoto sono anche chiusi sono sempre quindi non è una cosa proprio esclusiva ci sono altre topologie in cui per esempio c'è la topologia di schede in cui tutti i sottinsiemi sono sia aperti che più ora tecnicamente la topologia è la famiglia degli aperti che abbiamo di un sottinsieme di un spazio diciamo di sottinsieme aperti che abbiamo di uno spazio però noi siccome questi sono concetti abbastanza stratti non è che vogliamo fare chissà quali cose fantasmagoriche noi ci atterremo negli esempi al 99% li faremo con la topologia o con l'idea cioè sulla retta con la distanza usuale tuttavia noi abbiamo dato delle definizioni sfera aperta sfera chiusa la sfera aperta è un aperto poi lo dimostriamo la sfera chiusa è un chiuso poi lo dimostriamo poi abbiamo la definizione di intorno e la definizione di aperto con queste definizioni noi lunedì ci lavoriamo un po' e ricaviamo alcune proprietà che sono generali essendo generali le scriviamo a parte le scriviamo in generale non ha senso scrivere solo per la topologia euridea per quale motivo? un domani che cambiamo stiamo su un insieme di funzioni abbiamo una certa distanza le cose faranno lo stesso chiaro? va bene però